E' arrivato il momento veramente di vivere la prima sfilata, uno dei momenti più importanti della serata con le nostre 14 miss e allora, Serena, noi ci accomodiamo di qua, ci mettiamo di qua perché loro sono pronte per raggiungerci attenzione a non cadere giù, prima sfilata, 14 miss e allora cominciamo naturalmente con la numero 1 che si chiama Francesca Fralla Alleva, arriva da Milano a 23 anni e è acconciata da Champagne Nella numero 2, Deborah Goa, di Aspi, ha 24 anni ed è acconciata da Champagne Con il numero 3, Giulia Pietta Pietra, dai arriva da Finale Ligure a 22 anni e è acconciata da Champagne Con il numero 4 abbiamo Eva Leone, 20 anni, di Genova, acconciata da Champagne E ora la numero 6, Carlotta Violante, ha 17 anni, è di Albenga ed è acconciata dall'impronta di Carola Coria Pietta Pietra, dai, da Finale Ligure a 23 anni, è acconciata da Imposta di Carola Con il numero 7 arriva Elisa Mazzupelli, arriva da Genova, ve lo decidete lei, ha 24 anni ed è acconciata dall'impronta di Carola Coria Pietta, dai, da Finale Ligure a 22 anni e è acconciata da Champagne Coria Pietta, dai, da Finale Ligure a 2, Deborah Goa, di Aspi, ha 17 anni, è acconciata da Champagne La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata dall'incontro di Sarola. La numero finale è Mariana Tamagna di Torino, ha 18 anni ed è acconunciata da Franca Fol fallsene. La numero 15 è Veronica Castellucci, è di Alassio, a 16 anni, ed è acconciata da Franca Polchetti. La numero 16 è Giulia Abbas, è di Luano Duceltani, accrociata da Franca Polchetti. La numero 16 è Giulia Abbas, ed ecco le tutte insieme le nostre 14 aspiranti bus a ricevere l'applauso di Albeca e di Piazza Santino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Naturalmente anche per Sara. Ciao Sara, benvenuta. Allora, Sara tu hai fatto qualche sfilata ogni tanto? Sì, a Milano. Milano? Beh, un po' sticino da nulla per le sfilate di moto. Sì, ne ho fatta una o due. Ma ancora? Adesso ogni tanto sfilio? Adesso no. No, basta. Ok. Adesso accompagnami di sfilare anche qui. Va bene? Ok. Allora, se vi volete accomodare intanto nell'angolino lì pronte per prendere per mano le vostre coppie, iniziamo a presentare la prima di coppia. Noi invece ci riaccomodiamo di qua. Nel nostro angolino. Allora, la prima coppia è accompagnata da Miss Alvega Summer, da Trinidad Galindo. loro sono Ilaria e Matteo. Ecco Ilaria e Matteo. Sono vestiti da Original Marine con scarpe di rosso pistaccio. Accompagna Miss Alvega Summer. La seconda coppia è formata da Lorenzo e Pietro, accompagnati da Sara. Ecco che ci arriva un po' di... A presto sulla stella. Lorenzo e Pietro sono vestiti dai cubetti con scarpe di gas con gli stivali. Accompagna Sara. La seconda coppia si chiamano Sofia e Caulio. Accompagna Miss Alvega Summer, da Trinidad Galindo e loro, Sofie e Carlo. E adesso arrivano perché... Scusate, ci sono dei problemi. Stiamo preparando, ok. Allora, Sofie e Carlo sono vestiti dai cubetti con scarpe di gas con gli stivali. Eccoli qua. E ora abbiamo Adele e Alessandro. La quarta coppia. Accompagnati da Sara. Eccoli qua. Eccoli qua. Adele e Alessandro sono vestiti dai cubetti con scarpe di gas con gli stivali. A seconda coppia è Lucrezia. e Alessia, loro sono vestite da i giubetti con scarpe e il giotto con gli stivali, accompagna Miss Albenga Summer. Miss Albenga Summer 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 E ora è il momento di Sebastiano, vestito anche lui da via Oddo 13. Andiamo alla musica e arriva un momento importante, quello di Sara. Sara sarà in pigiama, anche in pigiama, vestita da intimamente con beauty della profumeria La Zagara. Sara! Eccola! Eccola! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!